Buongiorno amici, prima di iniziare questo video, nel bene e nel male, se ti fate Juventus, iscrivete al mio canale YouTube, azionate la campanella per rimanere aggiornati sui movimenti su questa piattaforma e qualora voleste, vi ringrazio come sempre anticipatamente perché siete molto carini, mettete like ai miei video. Allora, il giorno dopo Inter-Juventus 2-0 non c'è diritto di replica, dominio nera azzurro, partita ampiamente meritata dagli uomini di Antonio Conte che infatti prendono la Juventus, se la mettono nel taschino e vanno avanti, portando a sette lunghezze di vantaggio il proprio cammino, proprio sui bianconeri, considerando però come i campioni d'Italia in carica abbiano da recuperare ancora una gara contro il Napoli. Poco non è, considerando poi come questo sia un campionato altamente atipico e molto strano, diciamo che probabilmente in una situazione normale difficilmente ci sarebbe margine di recupero. Conte invece questo calcio che può cambiare all'ordine del giorno, la sensazione è che se la Juventus trovasse la tanto agognata continuità di vendimento, quantomeno se la giocherebbe fino alla fine, nonostante poi il cammino sia altamente balbettante, caratterizzato se non sbaglio da sei pareggi in campionato e due sconfitte, quindi non è un ruolino di marcia che solitamente, ribadisco, in un campionato normale ti porta a vincerlo, però quantomeno diciamo che la vetta non è ancora distante anni luce, tendendo poi di capire quale sarà l'esito della trasferta del Milan a Cagliari, perché poi se i rossoneri dovessero vincere e comunque metterebbero altri tre punti in cascina, il vantaggio proprio sulla formazione allenata da Andrea Pirlo. Voglio soffermarmi in questo video, questo è il macro tema, sulle parole rilasciate da Giorgio Chiellini, che secondo me sono passate un pochettino in sordina, vuoi perché il tifoso giumentino poi al termine del match non aveva più voglia di sentire niente e nulla, nemmeno di leggere niente e nulla, però il capitano Giorgio Chiellini ha parlato e ha fatto riferimento a un nuovo ciclo da aprire, facendo riferimento quindi a un ciclo che esistia ormai prossimo ad esaurirsi e che sia anche normale considerando poi come vincere nove scudetti di fila, sia estremamente complicato nonché leggendario. E da questo punto di vista nessuno può dire alcunché, perché la Juventus ha reso semplice qualcosa di mostruosamente difficile, davvero rendere routine il campionato italiano per nove stagioni, dando quasi per scontato che la Juventus lo debba vincere sempre. Ma lo sport ci insegna che alle volte si può essere anche vinti, quindi non è questo che secondo me deve spostare poi l'analisi, che la Juventus dopo aver costruito un'egemonia nostrana possa anche fermarsi, possa arrivare al capolinea, è naturale, è fisiologico e ribadisco lo sport. Ma c'è modo in modo. E io non sono molto d'accordo quando si fa riferimento in maniera globale a un ciclo ormai prossimo alla conclusione, perché non stiamo parlando della stessa squadra che è riuscita a conquistare il primo titolo battendo in Milan, che era molto più accreditato, guidato all'epoca da Max Allegri. I calciatori sono cambiati, ci sono strategie di anno in anno che hanno portato a fare magari un passo in avanti, magari due in avanti, magari tre in avanti e qualcuno indietro. Quindi la Juve ha avuto tanti cicli nel ciclo. C'è però stagione e stagione, c'è però mercato e mercato, c'è però strategia e strategia. E diciamo che probabilmente la Juventus dopo Cardiff si è specchiata un po' troppo, non dico con presunzione, ma comunque ha cercato ulteriormente, poi all'insegna dell'ambizione, mettendo a segno il colpo del secolo, di cercare di fare lo step finale per conquistare la Champions League. Perché a un certo punto, onestamente, si pensava che alla Juventus mancasse solo Leo Messi o Cristiano Ronaldo per cercare di conquistare un trofeo vinto l'ultima volta nel 1996. Sebbene la Juventus poi questo passo lo abbia fatto, le va dato un grandissimo merito perché c'è stato il lustro per il club, ma anche per il campionato italiano nell'aprire le rispettive porte a sua messa a Cristiano Ronaldo. Però la sensazione è che la Juventus, pur acquisendo, pur acquistando il miglior calciatore al mondo, negli altri reparti, soprattutto a centro campo, abbia perso di qualità e abbia perso di competitività su scala internazionale, che però inizia ad essere anche perdita di competitività su scala nazionale, perché onestamente io credo che ci siano già in Serie A tante linee metodiste superiori a quelle della Juventus, che ieri è naufragata in maniera piuttosto oggettiva, con la pessima prestazione del duo Adriano Rabiot e Rodrigo Bentancur. Non che i mali di questa Juventus li si debba associare unicamente al centro campo, però nella zona nevralgica, nel cuore, nel cervello, e là la Juventus continua a mancare, continua a cambiare pedile, ma ormai, diciamo, come punto di riferimento, come parametro, c'è sempre Berlino 2015, no? Dove la Juve scendeva in campo con Marchisio, Pirlo, Pogba e Vidal, centrocampisti che ora farebbero le fortune di questa Juventus nella maniera più assoluta e che invece ha fatto registrare progressivamente una regressione. Che lì fa riferimento a questo ciclo che potrebbe anche esaurirsi, poi è tutto da vedere perché i conti si fanno sempre alla fine, mai dare la Juventus per morta, non insegna la sua storia che poi in momenti di maggiore difficoltà tende anche ad esaltarsi. Però io credo che questo non possa essere visto come un anno di transizione. Vuoi perché annoveri tra le tue fila i migliori giocatori al mondo, e quindi sarebbe già uno simolo come pensiero embrionale? Vuoi perché, se io vado analizzare la rosa Juventina, vedo una squadra che non è inferiore al Milan, probabilmente potrebbe essere alcuni uomini nell'assetto titolare all'Inter, ma è pur sempre una rosa chiamata a cercare di conquistare il primato. C'è una rosa non costruita per arrivare in zona Champions, che deve essere proprio la base per un montengaggi collettivo simile e per un palmares collettivo simile, perché poi se andiamo ad analizzare tutti i calciatori della Juventus parliamo non di quelli giovani appena arrivati, ma gli altri sono tutti vincenti e plurivincenti, pluripremiati. Quindi c'è modo e modo di chiudere un ciclo. La Juventus in questa stagione non vorrei che poi tendesse a prendere questa scusa per giustificare gli alti e bassi, che finora mi hanno condizionato e come la resa. È difficile poi soffermarsi anche sugli aspetti tecnico-tattici, perché io ho fatto riferimento al centrocampo, che credo che ormai sia un problema tavico d'anni per la Juventus, però poi c'è anche la mentalità, c'è l'atteggiamento, c'è l'andare a San Siro in difficoltà, ok, perché io credo che le assenze ieri abbiano pesato tremendamente per i bianconeri, ma d'altro canto parliamo praticamente di quattro giocatori titolari. Il miglior difensore, Matthijs Delic, fermato dal Covid, terzino a sinistro titolare, Alexandro, con i suoi alti e bassi, comunque pur sempre colui che parte nelle partite di cartello al primo minuto, fermato dal Covid. Quadrado, mister, sette assi di stagione, una sola partita sbagliata in questa annata calcistica, ovvero con la Fiorentina, per il resto sempre arma in più, fermato dal Covid. E Paolo Di Bala, che magari sarà la terza scelta in attacco, ma è un calciatore che a San Siro ha sempre fatto grandi partite, vedi poi anche quella recente contro il Milan, con l'assi suntuoso servito a Federico Chiesa. Quindi se togliamo questi giocatori alla Juve, togliamo tanto, togliamo la forza motrice, e togliamo delle soluzioni in più, che magari Pirlo avrebbe potuto sfruttare, soprattutto a gara in corso, puntando sulla bontà della Rosa. Quindi questo va detto. Poi però c'è modo di perdere le partite, e ieri la Juventus l'abbiamo vista troppo timorosa, e con troppo rispetto per l'avversario, che è sicuramente forte, che probabilmente, anzi, togliere probabilmente, secondo me al momento, e in pole position per vincere lo scudetto, perché poi non avrà le coppe, perché Conte, quando ha solo una manifestazione da preparare la settimana, tende ad esaltarsi, e perché poi, quando vinci partite come quella di ieri, capisci che il tuo competitor principale è ferito, è gravemente ferito, e quindi puoi anche, diciamo, cercare di chiudere qualsiasi discorso attraverso le motivazioni che vanno a sopperire anche alle lacune tattiche. Quindi, non sono d'accordo sul fatto che la Juventus stia per chiudere un ciclo, sono d'accordo sul fatto che la Juventus abbia aperto tanti cicli nel ciclo, e soprattutto credo che i margini di miglioramento debbano essere all'ordine del giorno, cioè, l'errore più grosso di questa squadra consisterebbe nel dar per morta questa annata. Non deve essere così, a partire poi dall'impegno di dopodomani, perché c'è in palio il primo trofeo stagionale, e vincerlo comunque ti porterebbe qualche convinzione in più per cercare di recuperare un punto di vista mentale e premere sull'acceleratore in campionato. C'è ancora praticamente un giorno di ritorno, non praticamente, c'è un giorno di ritorno ancora tutto da giocare, bisogna chiudere ancora con la partita, quello d'andata, per quanto riguarda il campionato, quindi c'è ancora tanto da fare, però la testa, mai come in questo caso, farà tutto. Se i calciatori della Juventus pensano di essere arrivati erroneamente alla fine di un ciclo, allora è anche inutile stare qui e parlare delle prospettive stagionali di questa squadra. Viceversa, se c'è voglia di reazione, se c'è voglia di arrivare all'obiettivo in maniera collettiva, se c'è voglia di responsabilizzare i giovani affinché possano cambiare marcia per aiutare anche magari i veterani che sono un po' più in difficoltà, non solo dal punto di vista anagrafico, allora la stagione può cambiare perché io sono ancora fermamente convinto che non essendo questo un campionato normale la Juventus possa dire ancora la sua fino alla fine. A patto però che la testa poi governi le gambe e non viceversa perché se no ragazzi là sono dolori veri. Fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi. Un abbraccio.